Musica Salve amici appassionati Football Manager Qui con voi come sempre c'è Mec94 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui su Football Manager 2015 per continuare la serie consigli di inizio carriera Oggi parleremo della Roma e del Napoli, due squadre ovviamente molto forti della nostra serie A E niente ragazzi, partiamo a bomba, parleremo prima della Roma e come sempre partiamo prima dall'allenamento dai preparatori Che sono veramente tutti ottimi, vi consiglio anche un paio di mandarne via dei preparatori atletici E vi consiglio di impostare il vostro allenatore molto sull'allenamento d'attacco perché è proprio il preparatore che manca alla Roma L'Under 20, nell'Under 20 ci sono veramente ottimi giocatori come Edwai e Romagnoli o anche Bordin O alcuni che ho già mandato in prima squadra Dodò purtroppo si trasferirà all'Inter definitivamente l'anno prossimo È un peccato perché secondo me è un ottimo terzino sinistro Comunque non perdiamoci in chiacchiere, partiamo dalla rosa principale De Santis, 37enne, io lo terrei finché non si ritira Perché secondo me come primo o poi come futuro secondo portiere è ottimo Perché fa, sì, ogni tanto qualche cazzata Però è una sicurezza secondo me e quindi io lo terrei Lobont invece lo manderei via perché come terzo portiere può essere valido Però prende un milione e quattro e non vale la pena spendere tutti questi soldi per un portiere Che veramente non è né carne né pesce quindi via Idem con patate per Curci perché potrebbe essere un buon portiere per una squadra di media classifica Però qui alla Roma sarebbe il terzo portiere Spendere un milione per l'ingaggio per un terzo portiere secondo me non vale proprio la pena Invece per Skorupski, mamma mia non lo pronuncerò mai bene Vi consiglio di tenerlo e di visionarlo molto spesso perché potrebbe essere sicuramente un secondo portiere ottimo Però quando De Santis si ritirerà secondo me può anche diventare un buon primo portiere Ovviamente vi consiglierò un paio di portieri altrettanto bravi Però vi consiglio di tenerlo d'occhio ecco Per Maicon ovviamente non c'è niente da dire, è fortissimo Io proverei a rinnovare il contratto semmai cercando di limare un po' l'ingaggio Ma tenetelo fortemente Torosidis invece era molto incerto Perché è un ottimo tuttofare Però qui è richiesto dal Tottenham Quindi se vi da 5-6 milioni È un affare perché ci risparmiereste anche 2 milioni e mezzo di ingaggio Quindi vi consiglio di mandarlo via E ovviamente poi di sostituirlo con altri giocatori molto bravi Cioè che poi vi consiglio insomma Emanuelson invece va bene La Roma sta proprio giocando Mi pare che adesso è andato pure nell'Atalanta E forse anche in Football Manager 2014 Ho sempre detto che comunque per me un buon giocatore Un discreto giocatore almeno qui al gioco È un tuttofare Veramente può giocare laterale sinistro, laterale destro Ala, terzino, centrocampista centrale, centrocampista sinistro Trequartista veramente può giocare dappertutto E quindi io vi consiglio di tenerlo almeno quest'anno Anche perché è appena arrivato Quindi credo che sia quasi impossibile cederlo E io proverei a tenerlo Poi decidete voi se rinnovare il contratto Ovviamente almeno dimenzando l'ingaggio perché è troppo Me ne rendo conto Però almeno quest'anno lo terrei Visto che ad esempio appunto Balzaretti È infortunato per almeno 9 mesi Più di metà campionato Poi non so se rinnovai o meno il contratto Provateci però se li mando ma proprio di tanto l'ingaggio Perché almeno qui sulla carta è un ottimo terzino sinistro Quindi vi consiglio di tenerlo d'occhio Ashley Cole prende una barca ai soldi Però è un buon terzino Cioè in passato era fenomenale Adesso ha ottime qualità mentali Buone qualità fisiche Considerando che comunque è un 33N Qualità tecniche ha contrasti di 17 Che è ottimo Marcatura così e così Però io lo terrei ugualmente Anche perché essendo appena arrivato Difficilmente se ne andrà Idem con patate però Lebas Nella realtà si sta dimostrando un ottimo terzino Credo che anche qui nel gioco lo sia Provatelo insomma Io appunto essendo appena arrivato Difficilmente se ne andrà Poi per 2 milioni e 2 non lo venderei Perché insomma Può fare grandi cose Dopo lui c'è Castan Purtroppo ha avuto dei problemi Diciamo nella realtà E quindi non ha potuto giocare Seppure è operato Però io qui nel gioco Vi consiglio fortemente di tenerlo Perché è veramente veramente tanto tanto forte Idem per Astori Io anzi per Astori che vi dico Io vi consiglio di tenerlo quest'anno Però sono un po' incerto Se riscaltarlo o no Perché chiedono comunque 6 milioni 250 mila Che non sono pochi Per un 27enne Che comunque non è scarso Però non è nemmeno Questa forza inaudita Con 6 milioni Vi potete prendere un giovincello Tanto tanto più forte Che poi andremo a vedere Differente invece per Yang Gambiwa Perché mi pare che ugualmente Chiedono 6 milioni e qualcosa Uguale La cifra è uguale Però mi sembra già un pochino più forte Può fare molti più ruoli E anche di due anni più giovane Quindi vi consiglio Semmai di prendere lui E non Astori Ad esempio Pietro Questa non me la perdonerà mai Perché lui è un fan di Astori Però vi consiglio di prendere Fra i due Yang Gambiwa Manolas invece è fortissimo Cioè nella realtà sta facendo bene E anche qui nel gioco Secondo me è un ottimo difensore Capitano futuro Che cosa dobbiamo dire Niente Non pensavo prendesse così tanto di ingaggio Però Che lo volete cedere Non sia mai Seduketa Nella realtà sta facendo veramente grandi cose E anche qui nel gioco Secondo me farà tante cose Addirittura lo stavo visionando Per lo Schalke Se devo essere sincero Però io Fossi in voi Anche gli rinnoverei il contratto Semmai abbassando un po' Le pretese Però vale tutti I soldi che chiede Vabbè Raja Nengolan Ragazzi ma che ve lo dico a fare Fenomenale Fortissimo Secondo me Bigon si sta ancora mangiando le mani Perché All'epoca erano indecisi Fra Giorgini e Nengolan Il Napoli Che poi Di cui poi andremo a parlare Secondo me Nengolan E' fortissimo Pjanic Pure lui ragazzi Ma che parliamo a fare E' Fenomenale Un altro centrocampista Fortissimo Strotman Uguale A 3-4 mesi di stop Però Verso novembre Massimo dicembre Si recupera E ritornerà Più forte di prima Veramente un centrocampista Fortissimo Preso per 10 milioni E adesso ne vale quasi 40 Nella realtà Quindi niente da dire Florenzi Pure lui in tutto fare Può giocare come centrocampista centrale Come laterale Vi consiglio fortemente di tenerlo Ucan Ucan Come si pronuncia Invece ragazzi Per Ucan Io vi consiglio quasi di mandarlo via Gervigno Ragazzi che ve lo dico a fare I Turbe Iden con Patate Veramente fenomenale Almeno qui nel gioco Nella realtà Sta avendo un periodo un po' difficile Però Prima o poi si riprenderà Le Aitch Non vi consiglio fortemente di tenerlo Leandro Paredes Invece Vi consiglio di Di tenerlo in prestito E poi Vedete un po' voi Se che cosa vi combina Ehm Se è forte o meno Non è scarso È molto valido Come giocatore Chiedono anche molto meno Rispetto al precedente A meno di Rispetto a Ucan Vedete un po' Se gioca bene Tenetelo Se no Rimandateli indietro Totti Vabbè Ragazzi Il giovincello Ma veramente È fortissimo Non c'è nulla da dire Per quanto invece Riguarda Borriello Io Prima di iniziare il video Ho detto Vabbè Io quasi quasi Consiglio di tenerlo Però Li mando L'ingaggio Ma molto meno Della metà Ho provato a rinnovare Il contratto E chiede 8 milioni Appena ho letto questo Ho detto Vabbè Vattene a quel paese Cioè Io vi consiglio Vivamente Di mandarlo via Di venderlo Se non ci riuscite Io vi dico Tenetelo Almeno quest'anno Può essere una buona riserva E poi Arrivederci Grazie Perché Ho figli 8 milioni È veramente assurdo Per un giocatore Che non è Scarso Ma di certo Non vale 8 milioni Destro Appena arrivato al Milan Ma io vi consiglio di tenerlo Perché è un'ottima prima punta Almeno qui al gioco Tony Sanabria Dalla primavera Dall'Under 21 Vi consiglio fortemente Di tenerlo Ma io vi Vi dirò Un azzardo Vi consiglio Di impostare Il focus Cioè Posizione Laterale Destro Anche E ovviamente Ruolo individuale Ala Tutti i compiti Vi consiglio Di settarlo così Perché secondo me Può essere un ottimo Laterale Destro Può essere O anche Sinistro Perché visto che è Destro Può essere Sinistro E così Tira anche Ve lo consiglio Vi consiglio Di provare Impostarlo così Perché è abbastanza Veloce Ha un ottimo Tripling Buon controllo Palla Deve solo aumentare Un po' il cross Secondo me Può essere Un ottimo Laterale Però Ovviamente Anche un'ottima punta Decidete un po' voi Insomma È un consiglio Perché così Vi troverete un giocatore Che può giocare Entrambe le parti Ovviamente Conate Rescindete il contratto Che è Un po' scarso E niente ragazzi La Roma è questo La tattica Vediamo De Santis Colman Olasca Stamma Icon De Rossi Pjanic Naingolani Turbe Gervinio Totti Il classico 4-3-3 Di Garcia E che cosa ci servirà Almeno Un laterale Sicuro Poi Sono indeciso Se una prima punta O un'ala Molto dipende Anche da Come impostate Florenzi Insomma Potete prendere Sia un centrocampista Centrale Un'ala O un attaccante Dipende anche Molto da voi Insomma Se fate giocare Florenzi A centrocampo Potreste comprare Un'ala O una prima punta O se no Comunque Appunto Se fate giocare Florenzi Qui Un'ala Appunto Ma già l'ho detto Un centrocampista Centrale Invece Servirebbe anche Un difensore centrale Perché Ne abbiamo Tipo 4 E quindi Preferirei Aggiungerne un altro Detto questo Andiamo a parlare Del Napoli Come preparatori Vi consiglio Sono tutti ottimi Insomma Vi consiglio Appunto In questo caso Di impostare Il vostro allenatore L'allenamento Del vostro allenatore Su tattica E Staff invece In questo caso Tutto ottimo Non c'ho niente da dire Per quanto riguarda L'Under 20 Ovviamente Io vi consiglio Di tenere d'occhio Sepe Che l'anno prossimo Potrà Cioè l'anno dopo Tornerà Dal prestito Dell'Empoli E poi Ci sono alcuni Buoni Come questo Anastasio Tenetelo Sotto controllo Questo Bifulc Insomma Invece N'Under 18 Un po' meno Partiamo ovviamente Sempre Dai portieri Per la prima squadra Colombo Secondo me Può essere Un discreto Terzo portiere Prende veramente Pochissimo 185.000 euro Infatti L'ho messo Fra i cedibili Però pensateci Perché Potreste tenervi Un terzo portiere Che chiede veramente Due spicci Giusto per Insomma In caso proprio Di emergenza Cosa che invece Non farei con Rosati Via Assolutamente Può essere Un buon partiere Un buon primo partiere Per una squadra Di media classifica Ma per il Napoli No E poi Chiede Troppi soldi Insomma Andujar È il secondo È il secondo È il secondo dell'argentina Cioè di farlo Di farlo giocare Sempre Di vedere Se riesce a crescere Di vedere Come diventa Al massimo Poi Si venderà L'anno prossimo Insomma Questo vi posso consigliare Perché vendelo a 2 milioni 2-3 milioni È un peccato Cercate di farlo valutare Fatelo arrivare A tipo 10 milioni E poi Mandatelo via Compratevi un portiere Veramente forte Che poi comunque Vi consiglio Mesto Invece Vi consiglio di mandar via Perché Non è Sta grande cosa Insomma Maggio Maggio invece Un buon terzino Era meglio Gli anni precedenti Ma questo anche Nella realtà E Semmai Poi vado a rinnovare Il contratto Li mando di parecchio Però L'ingaggio Zuniga Invece Vi consiglio fortemente Di fare una cosa Che doveva fare il Napoli Un paio d'anni fa Venderlo a circa 10-15 milioni Sparmiare i 6 milioni Che prende l'ingaggio Manco Iguain Prende tanto E Mandatelo via Assolutamente Poi vi consiglio Un paio di terzini Che lo possano Sostituire Al meglio Ma via Assolutamente Zuniga 12 milioni E il PSG Se lo prende Goulam Invece Invece Lui vi consiglio Di tenere Giovane Deve crescere Questo Anche nella realtà Deve semplicemente Crescere E speriamo Che lo faccia Al meglio Enrique L'anno scorso Mi convinceva Molto di più Questo parlo Per la realtà Qui invece Quest'anno Sta diciamo Facendo buone prestazioni Invece altre prestazioni Veramente Scadenti Io qui addirittura L'ho messo fra i titolari Perché diciamo Che è il miglior difensore Che abbiamo Insieme al Biol Vi consiglio comunque Di tenerlo Iden con patate Per la Biol Però se Al Biol Se invece vi offrono Versi 15 milioni Già Penserei Quasi a cederlo Nella realtà Con 15 milioni Lo cederei subito Nel gioco Un po' meno Però Pensateci Insomma Britos Ugualmente Vi consiglio Di tenerlo Perché a questa cifra Difficilmente Trovereste un difensore Così ecco Non è Così scandaloso Con l'Abili Invece Lo avrei messo Fra i titolari Però qui non è Così forte Cioè non è forte Come nella realtà Vi consiglio anche lui Di farlo crescere parecchio E speriamo Appunto Lo faccia al meglio Radosevic invece Lo troverete Nella lista Dei cedibili In prestito Ma io vi consiglio Di tenerlo Perché mancano Comunque centrocampisti Di riserva E vi consiglio Appunto di tenerlo Che può essere Un buon panchinaro Per partite di Coppa Italia Comunque Con squadre Abbastanza scarse David Lopez Se ben vi ricordate L'abbiamo anche Eseguito con lo Spezia L'anno scorso E Io vi consiglio Di tenerlo Anche perché è difficile Lo vendete Visto che è appena arrivato È un buon mediano Io l'ho messo addirittura A titolare Quindi vi consiglio Di tenerlo De Guzman È appena arrivato Quindi difficile cederlo Però Buon trequartista E Buon sostituto Di Amsic Alla fine Nella realtà Quando entra Fa sempre bene Vi consiglio lo stesso Go Caniller Io nella realtà Lo cederei Qui Un po' meno Perché Comunque Un buon regista È anche Bastanza bravo In difesa Quindi è il giocatore Che più o meno Ci serve Giorginio Ottimo giocatore Qui nel gioco Può giocare Sia come centrocampista Centrale Quindi a posto di Lopez O Hiller Ma comunque Può giocare benissimo Titolare Al posto di Hiller O comunque Come trequartista Al posto di Amsic Ottimo giocatore Niente da dire Gargano Sono un po' indeciso Se venderlo o meno Perché prende un casino Di ingaggio Però ragazzi È ugualmente Un ottimo giocatore Qualità fisica Veramente ottime Qualità mentali pure Qualità tecniche Sì e no Però è un ottimo mediano Io ci penserei su Perché può Comunque Esservi tanto utile Kaleion Rispetto all'anno scorso È migliorato tanto E vi consiglio Di tenerlo Almeno che Non vi arrivi Non vi arrivi Un'offerta Inresistibile Di tipo 40-50 milioni Io vi consiglio Di tenerlo Ugualmente Per Mertens Perché Ottimo giocatore Insigne Incedibile Ragazzi Io l'ho messo in panchina Ma è molto Da alternare Fra Kaleion E Mertens Veramente Insigne Incedibile Michu Che nella realtà Secondo me È stata una grande Delusione Nel gioco Io vi consiglio Di tenerlo Però di non riscattarlo Perché 7 milioni e mezzo Non ce ne vale proprio Però Vi consiglio di tenerlo Perché può fare Sia il sostituto Di Amsic Ma io lo userei Quasi anche Come sostituto Del Pipita Perché Secondo me Può essere buono Ecco Amsic Io nella realtà Per 30 milioni Lo cederei subito Qui nel gioco Sembra tanto più forte Quindi Vi consiglio di tenerlo Addirittura poteste farlo giocare A centro campo In un 4-3-3 Invece del Solito 4-2-3-1 Del Napoli Però Ottimo giocatore Il Pipita Il Pipita Quest'anno Veramente sta facendo Follie Fortissimo Non c'è nulla da dire Forte forte E Zapata pure Mi piace tanto L'anno scorso Pure l'ho preso In un paio Di mie carriere Ed è davvero Tanto tanto forte Forte fisicamente Appunto Colpo di testa Finalizzazione Veramente un ottimo giocatore Che vi consiglio Di non cedere Detto questo La formazione È quella di Benitez Comunque Rafa Il Goulam Albiol Enrique Oculabili Insomma chi volete Maggio Lopez Hiller Mertens Amsic Caleion Higuain Io azzarderei anche A provare a fare così 4-3-3 Con Lopez Amsic Hiller Mertens Caleion Potrebbe anche essere Un'idea Perché 4-3-3 Come avete potuto Ben vedere Con lo Spezia Funziona tanto E quindi Potremmo anche Provarlo col Napoli Però Appunto potete giocare così Potete giocare con Il 4-2-3-1 Insomma ci sono Tante alternative E al Napoli Invece che manca La prima punta No Perché ce ne abbiamo tante Ci serve almeno Un difensore centrale Titolare Perché io ho messo Enrique Però Preferirei prenderne un altro Un terzino destro E semmai anche un terzino sinistro Visto che vendiamo Sia Zunico Che Mesto E un Trequartista Un sostituto per Mertens O Caleion O Insigne Il Napoli Si è preso Gabbiadini Però Se noi abbiamo ancora fatto L'aggiornamento Cioè o meglio Non c'è ancora L'aggiornamento Per il mercato invernale Quindi vi consiglio Appunto Altri giocatori A posto di Gabbiadini Detto questo Appunto Parliamo dei giocatori Da prendere Poi chiudiamo il video Che già sto Cerrando da tanto Allora Per la porta Potrebbe interessare Sia il Napoli Che la Roma Kevin Trapp Già ve l'ho consigliato Mille volte 4 milioni e 2 Ed è vostro Giocatore Portiere fortissimo E niente altro da dire Sicuramente Titolarissimo Sia per il Napoli Che per la Roma Ovviamente Il primo anno Alla Roma Potrebbe fare il secondo Di De Santis E poi ovviamente Giocare definitivamente Titolare Audero Invece Giocatore Che prendereste Con circa 1 milione 1 milione e 2 E secondo me Diventerà un buon Secondo fortiere Visionatelo Perché veramente Lo prendete con due spicci E vi portate a casa Un giocatore Che secondo me Può diventare Potrà diventare Un ottimo secondo Come Terzini Me l'avete consigliato In tantissimi Mille volte Cedric Per lo Schalke Con circa 6 Massimo 7 milioni Ma anche un po' meno Ve lo portate a casa Circa 5 Insomma Però guardate qui Cioè le statistiche Parlano da solo È fortissimo Ha solo i 22 anni Ed è veramente Devastante Questo terzino Veramente Fortissimo Se invece volete Spendere molto meno Vi consiglio Gino Peruzzi L'anno scorso Era fortissimo Fenomenale Quest'anno un po' meno Però Lo prendete anche Con molti meno soldi Circa 3-4 milioni Anche perché Catania in serie B Vi portate A casa Un giocatore Che ha già esperienza Per la serie A È un giocatore Comunque molto molto forte Ed è giovanissimo Se no Se vogliamo ancora Diminuire l'età Vi consiglio Federico Di Marco Dell'Inter Che già Ha ottime caratteristiche Ma ha solo i 16 anni Quindi deve crescere tanto Però è fortissimo Ragazzi Vi assicuro Che diventerà Tanto tanto forte Se mai questo Di Marco Lo consiglio più alla Roma Perché ha già tanti laterali Invece a Napoli Servono dei laterali Già pronti Tipo Peruzzi O tipo Cedric Però Di Marco Non sfigurerebbe mai In nessuna parte Cosa che invece Consiglio subito Al Napoli È Balanta Lo conosciamo tutti Circa 6 milioni Ve lo portate a casa Vi consiglio fortemente Di prenderlo Perché è tanto tanto forte E con Albiol Formerebbe una difesa Di fuoco Quindi ve lo consiglio fortemente Komar Che io oramai Porto dappertutto Lo prendo dappertutto Come Panchinaro Comunque come ultima scelta Per il difensore centrale È forte Cioè un'ottima scelta Deve crescere Ovviamente Sia alla Roma Che al Napoli Potrà far bene Soprattutto alla Roma Visto che C'ha già Comunque Molti difensori centrali Young Ambigua Stori Castan Eccetera Però appunto Affiancando A questi giocatori Potrà crescere E diventare tanto tanto forte Si prende con 700 mila euro Quindi ragazzi Davide Monteleone Se invece vogliamo Parlare del calcio italiano Di un giocatore italiano Lo prendereste Con circa 4-5 milioni Potesse anche prenderlo Impressi Con diritto di riscatto E anche lui Diventerà molto forte Figuriamoci se Gli affiancheremo Giocatori come Castano Come Albiol Quindi vi consiglio Tanto pure lui Per il centro campo E anche laterale Vi consiglio Carlos Gruezzo Che come potete ben vedere Può giocare Dappertutto Ed è fortissimo Lo portare a casa Con circa 3-4 milioni Il morale È orribile Quindi veramente Facile da portare via E ve lo consiglio Veloce Forte Forte In contrasti E in marcatura Buono anche tecnicamente Non c'è niente altro da dire Veramente può giocare Sia come laterale Che come centrocampista Centrale Kimmich Pure è un altro giocatore Molto valido Come mediano Ha solo 19 anni Lo porterebbe a casa Con circa 3-3 milioni e mezzo Cresce E niente Non c'è niente altro da dire Sto un po' Accelerando Perché Mi sa che Abbiamo sforato i 20 minuti E vi consiglio Ovviamente anche lui Fortemente Pione esisto Questo me l'avete consigliato In live In tantissimi Laterale Destro e sinistro Trequartista E secondo me Come sostituto Sostituto Di Mertens Caleion Può essere Veramente Veramente Devastante Poi deve solo crescere Solo 19 anni Guardate qua che caratteristiche Ve lo consiglio Fortemente Suso Se non avete più soldi Ad esempio ragazzi Con la Roma Avete solo 8 milioni Con il Napoli Circa 15 Quindi se non avete più soldi Vi consiglio di prendere Suso In prestito Per un anno Comprarlo è impossibile Perché chiedono Almeno 20 Dai 20 40 milioni Però in prestito Secondo me Pagate Circa metà Dell'ingaggio E Secondo me Può far Un gran Può far bene Insomma Tulissi Invece Se vogliamo Puntare All'Italia Insomma Giocatori italiani Circa un milione E qualcosa E si Forse non è prontissimo Per la Serie A Però L'anno prossimo Già Vi troverete Un'ottima Ottima riserva Insomma Un giocatore Da prendere E girare In prestito Poi Per le prime punta Visto che Diciamo Al Napoli Non serve Perché abbiamo già Iguain Zapata E Michu Alla Roma Si Visto che abbiamo Solo Totti E Destro Nel caso Borrelo Se ne va via Vi consiglio Stracqualursi All'inizio Ve lo consigliare Pazzini Però Pazzini Dovete Spendere 3 milioni Da dare al Milan Più 3 milioni Di ingaggio Invece Con questo Stracqualursi È ottimo Un'ottima prima punta L'ho preso Io In una carriera Che sto facendo A telecamere Spendere È veramente Molto forte Lo prendete Con circa 7-800 mila euro Di ingaggio Ma anche meno Ed è veramente Ottimo Se no Vabbè ragazzi Che ve lo dico a fare Con 4 milioni Vi portate Il nostro Bomber Dello Schalke Veramente Devastante Per chi segue Quella serie Sa Quanto Forte Belotti Se no Bonazzoli Dell'Inter Veramente Tanto Tanto Forte Deve crescere Quindi Sarà La terza scelta Si prende Con un milione E 7 E vi consiglio Tanto Di prenderlo Niente ragazzi Mi sto sgolando Quindi Credo Di chiudere Qui Vi faccio L'ultima carrellata Delle Formazioni Appunto Il Napoli Già l'ho detto Un 4-3-3 4-2-3-1 Come vi pare La Roma Uguale Spero Questo video Vi sia piaciuto Qualsiasi domanda Che avete da fare Potete benissimo Scriverla nei commenti Vi lascio Appunto Come sempre Con la lista Di giocatori Che vi consiglio E niente ragazzi Come sempre Un saluto Da Mike94 Ovviamente Football Manager D'Italia Ciao ragazzi